Ossia 5, quarto all'Olimpia di Lundra per la Gran Bretagna, David Green. Ossia 6, per gli Stati Uniti, Johnny Thatcher. Ossia 7, per l'Olimpia, Omar Cisneros. Ossia 8, per gli Stati Uniti, Joshua Anderson. Ossia 9, per la Germania, Jörg Fleischauer. Buon divertimento con la gara dei 400 saccoli maschili. Ricordiamo che la miglior prestazione mondiale dell'anno è quella di Johnny Thatcher, che corre in corsia 6, 48.02 a Pons, 18 di maggio. Il record del gol del gala Pietro Metea è di Feliz Sanchez, 47.73 del 2002. Giorgia 3, 4, 8.02 a Pons, 18 di Giorgione. Matt Halson, Green, Dutch, Gister, Anderson, Rayshauer questi i protagonisti dei 400 stacoli maschili sosteniamoli durante l'intera prova dei 400 stacoli facciamo sentire il calore, la passione e la gente dell'atletica questa trentattica che si trovano in base i campi come me rinascendo la rete di mattinale con Alberto Gertano Consola dal comando, tanto fianco con Cisneros applausi, fino al mio Cisneros, Consola per la partita di 48 e 38 il tempo rufficioso per vincere questa serie unica dei 400 stacoli storia per Johnny Dutch, Stati Uniti 48 e 31 quindi è capolista mondiale stagionale